Ciao ciao, eccomi qui con i prossimi tre tutorial degli orecchini Saturno, uno piccolino a forma di una, un altro a forma di goccia e un altro a forma di rumbo. Di ognuno farò un tutorial completo, in maniera tale che non ci siano rimandi ad altri video che sono sempre piuttosto seccanti. Si possono fare sia con le perle che comprate preziosa o qualunque altro tipo, sia che sia con le svarosche verrà semplicemente leggermente più piccolo. Il materiale come vedete è poco, io spero che vi piacciono e quindi al prossimo tutorial. Ciao ciao